Ciao a tutti, sono Martina e oggi voglio parlarvi della versione 4.6. Innanzitutto mi scuso già perché mi ingambererò sicuramente, questo è il primo video che faccio in italiano, normalmente parlo in inglese per cui ogni tanto non mi vengono i termini, per cui scusatemi già da subito, ma spero che vi sia di un qualche aiuto per affrontare la nuova versione che è ormai disponibile su tutti i nuovi server che iniziano dal 15 di marzo, per cui è già una settimana. Vediamo un po' quali sono le grandissime novità che questa versione porta. Innanzitutto le regioni, ci saranno cinque regioni invece che i domini come Italia, Francia, Germania, viene tutto unito e diviso in cinque, Arabia, Asia, Europe, America e International. In questi server però tutte le lingue saranno disponibili per cui potete scegliere uno qualsiasi di questi server e avere l'interfaccia in italiano. Altra grossa differenza che però colpisce molto poco noi italiani è la grandezza della mappa che è quattrocento uno per quattrocento uno per cui quella a cui siamo abituati, l'unica differenza è per il server international che prima di questa versione aveva la mappa grande per cui ottocento uno per ottocento uno. Altra grossissima eh differenza è che è stato aumentato eh quello che è la disponibilità eh dei nove grani e quindici grani all'interno della mappa che in effetti nella mappa piccolina erano un pochino scarsi, ce ne saranno di più. Cos'altro cambia? La velocità dei server siamo abituati a vedere server 1x e 3x con magari qualche speciale un po' più veloce adesso ci sarà ampia scelta fra uno, due, tre, cinque e dieci speed. I dieci non ve li consiglio sono da pazzi durano solo venticinque giorni giusto per farvi capire quanto pazzerelli sono. Altra cosa il nuovo sistema delle task. Questo nuovo sistema accompagnerà eh i giocatori dall'inizio del server alla fine del server perché oltre alle quest del villaggio start ci saranno anche quest per villaggi fondati, villaggi conquistati fino alla fine del server. Le ricompense eh sono eh risorse e esperienza per l'eroe. Quando collezionate le le ricompense le eh risorse andranno a finire nell'inventario dell'eroe. Cosa buonissima perché poi le potete usare in qualsiasi villo a vostro piacimento. Oltre a questo le ricompense dipendono dal livello del vostro eroe. Più alto è livello, più alto è la ricompensa. Cos'altro? Vediamo le oasi. Le oasi cambiano tantissimo. Nella nuova versione le oasi eh inizieranno senza risorse ma con gli animali. Uccidendo gli animali prendete delle ricompense in risorse che andranno a finire nell'inventario del vostro eroe. Queste ricompense dipendono da quanto grano consuma l'animaletto. Per esempio i topini prenderanno cinque per ogni risorsa. Eh mentre gli elefanti per esempio che hanno un consumo di cinque di grano prenderanno duecentocinquanta per ogni risorsa. Una volta liberata l'oasi per la prima volta da tutti gli animali le oasi ricominceranno a produrre risorse che potranno essere tranquillamente raidate con le truppine. Eh altra cosa importante eh se un'oasi viene pulita da tutti i suoi animali gli animali non risponeranno eh fino a che non finiscono i primi cinque giorni del server per cui la protezione nabbo base diciamo così per i server 1x per i server a velocità aumentata mi pare che sia dal da 2x a 5x tre giorni e un giorno per i 10x ma basta verificare nell'annuncio della server start dove c'è scritto esattamente quanto dura la protezione nabbo. Altra novità ed è la mia preferita si potranno finalmente riorganizzare gli edifici all'interno del villaggio per cui se come me amate conquistare però soffrite di un disturbo ossessivo compulsivo non dovrete più impazzire ogni volta che aprite quel villaggio che avete conquistato ma potrete spendere 20 gold e riposizionare gli edifici dove volete. Eh altra cosa la modalità vacanza è stata leggermente cambiata per cui ci sono dei cooldown che vanno mi pare dalle 12 alle 24 ore per iniziare e finire la modalità vacanza in modo da evitare abusi. È stato ridotto il numero di giorni che si possono prendere per andare in modalità vacanza. Non si può più eh usare le donazioni per cui non si può più donare bonus alleanza durante la vacanza e se conquistate un oasi c'è un blocco di 48 ore per poter entrare in modalità vacanza. Altra cosa nuova su tutti i server sarà disponibile l'ospedale che permette di curare le truppe che muoiono in battaglia mentre prima c'erano solo i bendaggi. da ora in poi sarà possibile eh ricostruire eh curare le truppe che vengono uccise una parte mi pare che sia il 40 per cento. Queste truppe finiranno in questo edificio eh speciale se disponibile nel villo altrimenti ciao ciao funerale grande parti e una volta nell'ospedale con le risorse le potrete incodare di nuovo e averle in parallelo alle cose normali di costruzione delle truppe. Ultima ehm novità ma molto importante eh per quanto riguarda eh l'oro il il costo dei gold. Il costo dei gold eh varierà sarà più basso di quello a cui siete abituati eh oltre questo ci saranno le notifiche direttamente in game quando c'è una promozione attiva ci sarà la possibilità di acquistare un starter pack all'inizio del server a seconda dei vostri progressi che è molto molto economico e la possibilità di trasferire gold da qualsiasi server italiano a qualsiasi nuovo server regionale per cui non perderete nessuno dei vostri gold che avete accumulato negli anni. Oltre a questo il i gold di partenza che vengono che trovate già sul vostro account passeranno da dieci gold a centotrenta gold e il gold club è stato aumentato a duecento gold. E queste sono fondamentalmente le novità. Se avete domande a cui non ho risposto scrivetele pure nei commenti e io sarò felicissima di rispondervi. Grazie per avermi seguito spero di pubblicare altri video nei prossimi giorni e ci vediamo su questo canale ciao